La nostra presenza qui è la testimonianza dell'interesse e dell'attenzione che noi abbiamo per la ripresa della legalità dell'ospedale di Caserta che rappresenta uno dei presidi più rilevanti sul territorio della Campania e che è stato purtroppo sacrificato da logiche di parte e interessi di soggetti privati. Quindi adesso con il nuovo vertice strategico è arrivato il momento di svoltare e di puntare a una ripresa, a un rilancio dell'ospedale di Caserta tanto più in un momento in cui si sta affermando il nuovo Policlinico nei prossimi anni e quindi occorrerà operare un raccordo tra le due istituzioni al fine di potenziare la cura sul territorio. Pensare in positivo è importante anche per le nuove generazioni, Presidente? Senz'altro che fino adesso tutti questi esempi negativi che abbiamo rilevato sia giudizialmente che tramite la stampa e l'informazione hanno depresso e hanno consentito più un atteggiamento lassista da parte di tutti. Invece la consapevolezza che c'è un tentativo forte di ripresa darà ottimismo certamente alle nuove generazioni e il presidio ospedaliero, in quanto tutore della salute di tutti quanti, è quello che sta più vicino alla sensibilità della collettività. Grazie.